Martedì 22 maggio, Santa Rita da Cascia. È il 142esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 223 al termine. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.45. La luna si leva alle 12.55 e tramonta alle 2.12 minuti. Ezzelino il Tiranno sposa Selvaggia, figlia dell'imperatore Federico II, nella basilica di San Zeno in Verona. Ezzelino non amava le donne, scrivono gli storici, e alla conquista di una donna preferiva la conquista di una città. Ciò non gli impedì da avere 4 mogli. Le previsioni per domani. Tempo variabile, un po' più instabile sui rilievi, con nuvolosità alternata schiarite. Probabilità di rovesci attemporali sparsi sui rilievi specie nelle ore pomeridiane e di qualche locale piovasco, rovescio, in pianura. Temperature minime stabili in pianura e in lieve calo sui rilievi. Massime in ripresa. Grazie. Grazie.